Dottor Bavaro va a realizzare un nuovo filmato dei suoi questa volta in collaborazione con Pietro Storti A questo giro non ci sono cose troppo eclatanti e meme come la mitica frase del meglio dello champagne Per capire di cosa sto parlando guardate lo scorso video Ma comunque ci sono loro tre con queste due ragazze vestite da cheerleader all'interno di questo spogliatoio Che fanno cose, mettiamola così Chiaramente anche in questo caso essendo un filmato caricato su OnlyFans non posso mettervelo qui neanche su Telegram in realtà Perché è prodotto da copyright Ma vi posso mettere come ho già fatto solamente qualche spezzone Ma non aggiungo altro e voglio sapere voi cosa ne pensate di questa collaborazione strana Fatemi sapere con un commento qui sotto la vostra Noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio